Buongiorno a tutti cari amici, seppure un po' claudicante a livello salutistico, salutare, un po' di tosse raffreddore, speriamo che mi rimetto per lunedì 31 in vista della terza dose di covid, a parte queste cose, come ho promesso ieri su facebook e su instagram, oggi parliamo e analizziamo quella che è la carta attuale pressoché è quasi definitiva dell'evento speciale Premium Live Event Paper View Royal Rumble 2022 che si darà questo sabato 29 gennaio 2022 a St. Louis Missouri, è detto che precede quello che sarà il primo Paper View in Arabia Saudita a febbraio di Elimination Chamber, ma in questo video parlerà appunto di Royal Rumble. La carta al momento vede, lascio per ultimo le risse reali, Brock Lesnar, campione WWE con l'assistenza di Paul Heyman contro Bobby Levy, l'assistente da MVP, Heyman MVP, praticamente le due voci pressoché assolute in questo momento storico ed attuale più note e famose come manager della WWE. Allora, quello che posso dire è che Brock Lesnar è una bestia, è una potenza unica. Bobby Levy però, anche lui non scassa, l'esito qui c'è sulla carta, andando a ragionamento per poi un incontro nuovamente titolato per Bristol Mania tra il 3 aprile 2022 dovrebbe confermarsi campione Brock Lesnar, però io vado con il mio dubbio e dico 50 e 50. Becky Lynch contro DrewDrop, valido per il titolo femminile di Raw detenuta Becky Lynch, qui penso proprio che la vittoria vada nei confronti di Becky Lynch anche se secondo me DrewDrop non farà una brutta figura. E poi veniamo ad un altro big match, ovvero la Hit Cupol, Edge e Beto Phoenix contro Edge e la Glemson, Beto Phoenix contro Denise e Marise. Allora, quello che ti capisco è una cosa. Queste due coppie a livello di ascolti, se parliamo per esempio al canale ufficiale YouTube della WWE hanno regalato tante visualizzazioni in termini appunto di ascolti. Dal mio profondo cuore voglio che vincano Edge e Beto Phoenix, però sappiamo che Demise e Marise possono nascondere tante insidie. Eppure l'ultimo match, ma non l'ultimo perché ci sono le RIS reali, che è Roman Reigns con Seth Freakin' Reigns, valido per il titolo universale detenuto a Roman Reigns. Gli usos bannati da Bordo Ring, quindi non potranno aiutare ad intervenire a favore del capo Tribu, capo Tau a Tribal Chief Acknowledgement Roman Reigns. Allora, che cosa vi posso dire? Che voci e rumors dicono che Rollins dovrebbe vincere la cintura. Staremo a vedere come un problema Roma Reigns ha fatto un regno da campione universale straordinario, superando addirittura i numeri del regno titolato precedente di Brock Lesnar. E ora veniamo alle due RIS reali, partiamo dal gentil sesso, da quella femminile dove abbiamo Ria Ripley, Nicky Ash, Dana Brooke, Carmela, Queen Zelina Vega, Tamina Snuga annunciate 7 gennaio 2022, SmackDown, Shalsi Blackheart, Natalia, Alia, Naomi, Shana Basler, Charlotte Flair, anche loro annunciate 7 gennaio, sempre il 7 gennaio annunciate Nicky Bella, Bribella, Lita, sempre il 7, anche Michelle McCool, Kelly Galli, Summer Rae, Miggy James. Miggy James, attenzione che campionessa femminile non calza Impact Wrestling, ma da quanto io ho letto su internet sembra che non ha un contratto a tempo pieno full time con Impact, quindi può giravagare quasi ovunque potremmo dire, e annunciate a loro proprio il 17 Blanca Bella e Liv Morgan. Che si può dire di questa rissa reale femminile? Che possono tornare Asuka, Belli, ma soprattutto un nome che sta tambureggiando già da un paio di giorni a quello di Robby Ronda House, che ragazzi se veramente ritorni e va a sfidare Baby Ninja Presta Armenia, è uno dei più grandi dream match della storia di Presta Armenia. E ora andiamo invece ad analizzare quella che è la rissa reale maschile, annunciate a loro il 3 gennaio, Angelo Dawkins, Monte Esford, Ray Mysterio, Dominic Mysterio, Austin Theory, 7 gennaio, annunciate a SmackDown Shims, a Day One confermata SmackDown Johnny Knoxville, annunciate tra Twitter il 10 gennaio Damian Pryas, AJ Styles, Biggie, il 14 gennaio tra Twitter e SmackDown Epic Orbi, Madcap Moss, Sami Zayn, Kofi Kingston, annunciati il 17 gennaio a Roque Evin Owens, annunciati da Twitter il 24 gennaio, Amos, Randy Orton, Matt Riddle, Chad Gable, Lardis, Dolph Ziggler, Robert Hood, che dire che qui invece siamo un po' dubbiosi su chi potrebbe fare il ritorno improvviso, chissà, si parla per esempio di Kane, la Red Monster Machine, vedremo, e poi siccome al momento questa card comprende 6 sfide, ovviamente incluso le due risse reali, dobbiamo dire che secondo me potrebbero essere aggiunti, incontri dall'ultimo ora, in questi ultimi giorni, prima del pay-per-view premium live event, Damian Pryas contro Kevin Owens per il titolo degli Stati Uniti, e se lo fanno secondo me vince il titolo degli Stati Uniti Kevin Owens, e potrebbero essere aggiunti anche i rimasti do l'altro tra gli anche brovi di Alpha Academy, Alpha Academy, che hanno detronizzato dalle cindure di coppia dello show del lunedì sera della WWE, qualche settimana fa, appunto, Matt Riddle e Randy Orton. E direi, voglio chiudere il video e dicendovi che sto preparando per tutti quanti noi e tutti quanti voi una bellissima sorpresa dedicata a questo pay-per-view premium live event Royal Rumble 2022, noi ci vedremo per altre occasioni, fin quando riesco a tenere il computer per il solito poi aggiornamento annuale di antivirus e altre cose, quindi noi ci becchiamo tra YouTube Nicola De Lucia, Facebook Nicola De Lucia la paginetta, Caffè Corsar Deluxe, Pronostici Calcio, Instagram Nicola De Lucia 1994, quindi noi ci vediamo nella prossima occasione, alla prossima, ciao!